C'è stata una gara d'appalto, l'azienda ha vinto e ha primeggiato rispetto a tante altre aziende. Noi come gruppo genitori vogliamo che questa azienda debba continuare a primeggiare assolutamente portando sulle tavole dei nostri bambini il cibo di qualità servito sotto tutti i punti di vista nel migliore dei modi. Secondo giorno di protesta simbolica per i genitori della Biagio Grimaldi del quartiere San Paolo radunati davanti ai cancelli della scuola di Biagacudi, al centro della polemica il servizio di mensa scolastica ha ritenuto scarso e decativo gradimento dopo la somministrazione di un merluzzo nero e maleodorante. Anche oggi molte classi dell'istituto Grimaldi sono rimaste vuote dalle 12.30 alle 13.30 quando i genitori sono andati a prendere i propri figli a scuola per andare a pranzare a casa respinta anche la richiesta di portare il pranzo a sacco. Molte mamme da ieri stanno iniziando a prendere i bambini alle 12.30 come farò io e altre mamme della mia classe e li verremo a lasciare all'una e mezza proprio per la qualità cibo. Oggi accadrà la stessissima cosa almeno per quanto riguarda la nostra classe rimarranno in classe soltanto due bambini. Noi non vogliamo un nuovo cibo, un nuovo menù, noi vogliamo un menù che sia qualitativamente ottimo e quantitativamente giusto. La questione è finita con la convocazione da parte del Comune all'azienda appaltatrice del servizio l'Aladisa che da subito si è difesa definendo il merluzzo pregiato sano e nutriente e a concordare anche una serie di modifiche al menù che vedrà inseriti al posto del merluzzo nero il classico filetto di merluzzo ma anche legumi interi e la frittata con il latte. Intanto i genitori continuano a chiedere all'amministrazione comunale di costituire una commissione di verifica. Chiediamo ovviamente al Comune di verificare, di istituire questa commissione di verifica come è previsto anche dal capitolato d'appalto in maniera tale da risolvere questa problematica.